Lufo! Ciruzzo! C'è già un'altometta pronta eh! Vabbè no! Che è questo qua? Che è questo qua? Oh con l'impennatina eh! Dov'è la jumping? Chi è quel pilottone lì? Dov'è la jumping? Ma chi è quel pilottone lì? E' quella puccia nega! Ma chi è oh? Ma chi è oh? Puccia nega! Puccia nega! Puccia nega! Ma chi è oh? Puccia nega!